... Martedì 4 maggio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa che apriamo con i numeri del bollettino ASREM sul fronte contagi in Molise. Nessun decesso e zero ricoveri, positività che si attesta sull'1,1%, il virus è presente in 68 comuni. Sentiamo il servizio di Pierluigi Boraggine. Si svuota il Cardarelli, 36 degenti ricoverati in contrada Tappino. Non accadeva da ottobre due al gemelli Molise in terapia intensiva, in totale nove pazienti in rianimazione. Neuromed e Santimoteo continuano ad essere covid free. Nessun decesso e nessun ricovero nell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale con due dimissioni da malattie infettive e solo cinque positivi, due a Campobasso, a fronte di 453 tamponi rifertati con tasso di positività all'1,1%. Nel documento ci sono anche 31 guariti con gli attualmente positivi che scendono a 581, 2.753 invece soggetti in isolamento. Il virus è presente in 68 comuni, altre tanti, quelli senza contagi. Il comune più colpito è Campobasso con 127 casi, 87 a Boiano, 40 a Isernia, 32 a Termoli, 19 a Petrella Tifernina, 16 a Casa Calenda, 15 a Matrice Montaquila, 14 a Venafro e Lucito. Adesso i titoli dei quotidiani partendo da primo piano Molise, covid, cinque casi accertati, 31 guariti e due dimessi, arrivano Figliuolo e Curcio, il commissario per l'emergenza e il capo della protezione civile attesi dopo domani a Campobasso, briefing con i vertici della cabina di regia e visita in un centro vaccinale, giornata senza vittime nel ricoveri, tasso di positività all'1,1%, somministrate 2.552 dosi, popolazione 2020, anno funesto, calo dei residenti, Molise in vetta con il 13,2 per mille, la regione più colpita ma non è l'unico indicatore negativo. Intanto a Montaquila rientro a scuola in sicurezza, screening gratis per gli alunni, il punto a firma di Sergio Genovese, lei non sa chi sono io, poi al centro pagina con San Martino, paese lutto per Giancarlo, rito celebrato dal nunzio Leo Boccardi, l'amministrazione ha proclamato il lutto cittadino, Monte Roduni, bimbo cade dal balcone, voleva raggiungere la mamma, sta bene, Campobasso custodire, lavorare, benedire, bregantini insiste, la domenica sia di riposo per tutti, Castelpetroso, gli acrobati dell'edilizia sulle facciate della Basilica, intanto a Campobasso, in 25 comuni dell'ambito sociale sono partiti i PUC, 135 percettori del reddito di cittadinanza, da ieri operano per la collettività, la regione l'aggiunta stanza a 2 milioni, presto il bando, contributo di 500 mila euro a ogni diocesi per il sossegno e bisognosi, durante la pandemia poi il calcio con la Serie D, lupi, infortunio esposito, timori e speranze in attesa del risponso degli esami per il fantasista si teme, un lungo stop, vasto girardi il DG Crudele sulla sconfitta ad Aprilia, la nostra gara peggiore, intanto in eccellenza, i Serni avvio da leader, ora la sosta prima del Boiano, passiamo così ai titoli dei quotidiani nazionali, con il messaggero che apre con le indicazioni dell'Europa ai paesi, l'Europa riapre al turismo e l'Italia in ritardo, sul Covid Pass l'Unione Europea ribalta le regole, meno di vieti, chiusure, se i contagi risalgono, ma da noi il certificato vaccinale sarà operativo, solo da metà giugno, all'interno emozioni ritrovate, io, lei, un film, il miracolo delle storie viste al cinema, poi l'articolo di Francesco Grillo, la sfida di triplicare la velocità del paese, sostegni 14 miliardi e criteri flessibili per ristoranti e PMI, nel decreto bis gli imprenditori sceglieranno il periodo di calcolo della perdita di fatturato, al centro vediamo l'immagine, la verità su Marco, ferito e lasciato morire, c'è la foto di Marina Conte, madre di Marco Vannini, la Cassazione conferma le pene, la famiglia Ciontoli resta in carcere. Passiamo al Corriere della Sera, vaccini Italia a due velocità, il sud indietro sugli anziani, figliuolo, ipotesi AstraZeneca agli under 60, decreto sostegni bis 14 miliardi a partite IVA e piccole imprese, via la prima rata dell'IMU, poi troppi distratti in Europa, terroristi e giustizia, nell'articolo di Angelo Panebianco, al centro pagina, Davigo parlò della loggia, anche con altri membri del CSM, dossiere i veleni, tra i magistrati, l'immagine centrale è con il fondatore della Microsoft, Bill Gates, che divorzia con Melinda, dopo 27 anni, l'annuncio con un comunicato su Twitter. Passiamo alla Repubblica, Rai, niente riforma, prima il cambio dei vertici, il governo rinuncia a nuove regole, pur di mandare via Giugno, Salini e Foa, domani in vigilanza, processo e dirigenti, dopo le accuse di Fedez, di censura preventiva, il blitz della Lega, per modificare il DDL ZAN, un recovery per le donne, e così verranno ridotte le discriminazioni, poi il punto, la rivoluzione può attendere il commento, quei fondi dell'Unione Europea, per il nostro futuro, scudo europeo, contro i predatori di Pechino, piano di Bruxelles, per proteggere le imprese, dalle scatole cinesi, poi la notizia sul Covid, le polemiche sulla festa in piazza a Milano, festa a Scudetto, fra due settimane ne pagheremo le conseguenze, dicono gli esperti. Passiamo così al Fatto Quotidiano, che apre con la notizia, che vede Renzi, che è stato beccato con lo spione, dice il Fatto Quotidiano, e Renzi spara al report, voglia di censura, interrogazioni e calugne da Italia Viva, pur di non parlare di mancini, i renziani evocano Casalino, e inventano fatture, mentre nel taglio alto, interisti in piazza, Fontana e Salvini, processano sala, polemiche e timori, su possibili contagi. Il Sole 24 Ore, apre fuoco con il titolo, sullo fondo perduto, e gli aiuti per 14 miliardi, moratoria dei prestiti, proroga con limiti, sostegni bis, nella bozza del DL, i supporti alle imprese, estesi al 2021, intanto al centro pagina, il food e arredo, rilanciano l'export, più 7,6%, gli scambi mondiali, le stime 2021, sono di una forte ripresa, del commercio, del settore, intanto Mediaset e Vivendi, trovano l'accordo, francesi in uscita, e fuori dal CDA, passiamo allo sport, con i titoli della Gazzetta dello Sport, che apre ancora, con l'Inter vincente, io sono il re, lo scudetto di Lukaku, Romelu conquista l'Inter, e non solo, punge Ibra, incoronato dal vero Dio, inchinatevi, voglio aprire un ciclo, intanto Conte al rialzo, via alla missione seconda stella, chiede tre colpi, e un portiere, torna Sarri, sempre più Roma, la Rosa gli piace, già bastano 3-4 rinforzi, processo a Fonseca, intanto che non si dimette, brivido CR7, Gigio senza il posto in Champions, sarà addio per i due talenti, fenomeni di Juventus e Milan, intanto il Berdetto in campionato, il Toro scatta avanti, il Parma va in Serie B, il posticipo di Serie A, finisce 1-0 per i Granata, gli Emiliani retrocedono, assist di Anzaldi, a rete di Voivoda, Nicola in cassa, tre punti d'oro. Adesso diamo lo sguardo, agli appuntamenti previsti per quest'oggi, sulla nostra rete alle ore 11, fuoco incrociato, l'edizione del telegiornale alle 14, 14.30, Salus TV, fuoco incrociato alle 16, Musa TV alle 18.30, l'edizione serale del telegiornale alle 19.30, alle 20, Italia Economia, alle 21, Paese Mio, alle 23, l'ultima edizione del telegiornale. Con questo è davvero tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione, a tutti gli auguri di una buona giornata. a tutti gli auguri di una buona giornata.